A cura del professor Carlo D'Angelo Amiche ed amici radioascoltatori mi è venuto in mente oggi di parlarvi di una malattia già trattata in passato mi è venuta in mente questa malattia alcuni giorni fa mentre visitavo un anziano signore con problemi cardiaci respiratori e anche motori la figlia insisteva nei confronti della madre che era presente alla visita a fermarsi perché la mamma non faceva altro che tamburellare sul vicino comò in camera con le dita questa signora era affetta ed è affetta da morbo di Parkinson ed è inutile dirle non battere perché con il tremore continuo dava fastidio all'ascoltazione del cuore e del respiro e la figlia se la prendeva con la madre forse innocentemente parliamo oggi del morbo di Parkinson il morbo di Parkinson è una sindrome che è caratterizzata da un'associazione variabile come quantità di tremore di rigidità e di bradicinesia cioè di rallentamento dei movimenti con un modo caratteristico di camminare e di avere la postura diciamo subito che questa malattia si chiama così il morbo di Parkinson dal medico che la prima volta l'ha descritta James Parkinson nel 1817 quindi è una patologia conosciuta da circa 200 anni perché il prossimo anno faremo il centenario molte volte sentiamo parlare di sindrome parkinsoniana e morbo di Parkinson il quadro clinico alla fine è uguale la differenza è soltanto che il morbo di Parkinson è quello primitivo molto più frequente nei giovani nell'età media mentre il Parkinsonismo che noi definiamo questo quadro come secontario è la conseguenza della compromissione di alcuni problemi a livello cerebrale non come forma primitiva mancanza di dopamina o degenerazione come nel Parkinson ma di sostanze degenerative molte volte di farmaci di tossine esogene o anche endogene voi pensate io ricordo da piccolo risultando un ragazzo delle medie mia madre usava un farmaco per la pressione che si chiama l'Asix reserpina si chiamava perlomeno non c'è più adesso ritirato perché se l'Asix la furosemide non è reclamo ormai internazionale il nome è utilissimo come diuretico e quindi abbassa anche la pressione la reserpina invece è un farmaco che è utile per la pressione ma ha tanti di quegli effetti collaterali fra i quali la possibilità di sviluppare il Parkinson così come può fare il monosseo di carbonio, il manganese e alcune sostanze degenerative diciamo che il Parkinson colpisce soprattutto l'età media e l'età avanzata e il parkinsonismo perché si ha una perdita di quei neuroni pigmentati che si trovano nel cervello in quei luoghi che si chiamano substanza negra, locus ceruleus, globo pallido, putamen sono più queste definizioni che interessano il medico ma tanto per farvele sapere questi neuroni che producono la dopamina dopaminergici vanno incontro con l'invecchiamento a necrosi, è normale perdere un certo numero di neuroni fortunatamente se non riusciamo a conservarne almeno il 20-30% il Parkinson non arriverà perché il Parkinson si manifesta quando la perdita di questa popolazione neuronale raggiunge circa il 90% c'è tutto un sistema meccanismo di inibizione, di competizione, di modulazione fra i vari neuroni con delle sostanze biochimiche che il nostro corpo produce a livello cerebrale c'è una mappa di agenti biochimici che è veramente grandiosa se noi pensiamo all'adrenalina, alla noradrenalina, alla serotonina in questo caso alla sostanza che interessa il Parkinson che è la dopamina bene, quando si ha la carenza di questo mediatore cerebrale vi sono delle alterazioni non solo a livello motorio ma anche a livello cognitivo al livello dell'umore e compaiono dei tremori abnormi il tremore che è uno dei primi segni forse il più conosciuto del Parkinson ma compaiono anche alterazioni della postura il paziente ha difficoltà molte volte a stare insieme in piedi del tono muscolare assumono un atteggiamento in cui il tronco è piegato in avanti assumono un atteggiamento dovuto anche alla rigidità delle sue masse muscolari la causa, vi dicevo, è la mancanza di questa sostanza che modula il funzionamento dei vari neuroni le manifestazioni cliniche già descritte in precedenza sono il tremore, l'aumento del tono muscolare, la cinesia la riduzione cioè dei movimenti attivi fino ad avversi anche la possibilità di paralisi il paziente non è più capace di alzarsi, di camminare ecco perché all'inizio, 200 anni fa il dottor Parkinson parlava di paralisi agitante il paziente ha difficoltà muoversi a camminare però presenta questa continua agitazione questi tremori tremori che sono più accentuati al riposo ma che sono anche amplificati dalle emozioni della fatica e questi tremore stranamente scompagnano durante il sonno e diminuiscono anche quando vi è un'esecuzione dei movimenti volontari cosa succede? che il tremore si può manifestare all'inizio anche soltanto a un emisoma noi parliamo di emiperkinsonismo soltanto a metà corpo ma può interessare molte volte tutte e due le parti del corpo interessare la mandibola, la lingua, la fronde, le palpebre il paziente affetto da Parkinson oltre a manifestare la rigidità che è evolutiva presenta una facis cioè un aspetto del volto molto particolare è amimico, non ha espressione sembra quasi un paziente inebetito ora il bello è che questi pazienti a meno che non vadano incontro ma sono per fortuna pochi a forme di demenza ripeto in pochi casi si ha la trasformazione del Parkinson in Parkinson demenza questi pazienti anche se appaiono inespressivi e apatici senza un'espressione del volto di gioia o di dolore ragionano tranquillamente quando vedete un parkinsoniano parlateci ritenete che non sia soltanto una persona bloccata nel corpo che non ritenete che sia bloccata anche nella mente vi sono degli altri segni che compaiono progressivamente perché la malattia è evolutiva e progredisce nel giorno di 5-10 anni fino ad aversi una cinesia rigida in cui il paziente è incapace di svolgere le attività basilari della vita quotidiana ecco perché mi meraviglio quando molte volte mi capita nel corso di visite mediche di riscontrare dei pazienti affetti da Parkinson che non fanno alcuna terapia medica per il Parkinson questo è un errore e se il collega ha difficoltà per la gestione dei farmaci che curano il Parkinson gestione che molte volte è difficile esistono sempre gli specialisti che sono in grado di dare una soluzione di trovare una via perché il paziente con Parkinson possa vivere degnamente i suoi anni vi dicevo che la malattia è evolutiva perché se non diamo la possibilità al paziente di muoversi è ancora più bloccata ecco perché ne lo viderò anche dopo molto importante è l'attività fisica cosa che viene sempre raccomandata in modo particolare in questa malattia come si fa la diagnosi? certamente non chiedo agli ascoltatori di fare voi la diagnosi sarà sempre il medico e anche il medico di famiglia che ha una cultura generale un medico di medicina generale è capace di poter trovare questi che sono i segni che vi dicevo prima cioè della rigidità molte volte se si va a piegare l'avambraccio ad estenderlo sembra quasi che al posto del gomito ci sia una carrucola infatti si chiama segno della troglia dentata è come se noi muovessimo una carrucola di un polso di un sistema meccanico idraulico e si sembra quasi uno scarto che fa l'articolazione del gomito insieme a questa rigidità vi è una bradicinesia una lentezza nei movimenti un segno caratteristico che dovreste tutti imparare potete vederlo in un paziente che ha questa malattia è il segno della festinazione termine latino che vuol dire affrettarsi il blocco motorio del paziente con parkinson si ha soprattutto quando il paziente deve iniziare a camminare deve iniziare una marcia deve iniziare a muoversi io per farmi capire raffiguro questo blocco a quello delle vecchie vetture diesel ormai siamo quasi tutti col diesel buona cosa perché rende molto e costa meno le vetture si accendono normalmente e partono subito con il carburante diesel nel parkinson il paziente che deve cominciare ad alzarsi da una sedia o a camminare lo fa piano piano a piccoli scatti una volta che si è alzato e comincia a camminare accelera questa marcia un po' come facevano le vecchie macchine diesel perché è come se corressero di più una volta che hanno iniziato il movimento tanto è vero che qualcuno ha scritto che il paziente con il parkinson una volta che comincia a camminare è come se inseguisse il proprio baricentro perché c'è questo atteggiamento di flessione del tronco in avanti della testa flesseva un pochino sul tronco quindi cerca anche di correre per recuperare quella che è la sua attività fisica la diagnosi è molto complessa ma anche l'indagine molte volte ci è utile un attacco encefalo ormai l'attacco encefalo si fa a livello di un normale torace non è un problema a meno che non si richieda il mezzo di contrasto ma esistono anche degli esami più particolari come la PET la SPECT la PET che è la tomografia ad emissione di positroni la SPECT che è la tomografia computerizzata con singole emissioni di positroni sono metodiche che voi non dovete proporre al medico ma sarà lo specialista a indicarvi di fare questi esami avere un po' di pazienza perché c'è sempre la fila e l'attesa per eseguire questa indagine per poter vedere qual è la integrità o meno di quel sistema nigrostriatale cioè di quello sistema che vi dicevo prima di quelle fibre che ci danno la possibilità di modulare il movimento l'attività e il toro muscolare una volta posta la diagnosi di Parkinson si passa alla terapia vi dicevo che fortunatamente abbiamo oggi dei mezzi farmacologici ci sono tanti farmaci prima ce ne avevamo veramente pochi alcuni che avevano anche dei grossi effetti collaterali andavano bene per il Parkinson ma davano problemi ad esempio a livello della prostata per dirne uno per gli uomini oggi i farmaci sono tanti ma non vanno usati così porta a porta come il vicino a questo problema ce l'ho anch'io faccio la sua cura i farmaci vanno personalizzati e non sono l'unica cura del morbo di Parkinson perché nelle fasi iniziali i mezzi di tipo farmacologico possono essere dannosi perché dopo un certo numero di anni non c'è più la risposta al farmaco principale che è la dopamina per esempio e quindi nei soggetti giovani la dopamina va usata con più ritardo rispetto a quelle anziani perché nelle prime fasi della malattia deve essere data la precedenza ai mezzi di terapia non farmacologica fra questi il posto principale è occupata la terapia fisica e la terapia riabilitativa la quale deve essere usata per tutto il corso della malattia in un secondo tempo si darà anche la terapia farmacologica il programma riabilitativo va adattato al paziente e porta a un miglioramento della mobilità della coordinazione dell'equilibrio attraverso l'apprendimento di tecniche e di espedienti utili per poter svolgere le attività della vita quotidiana qual è il vestire il mangiare la cura personale ci sono degli esercizi che vengono fatti saranno i terapisti che conoscono questa patologia e quale tipo di esercizio certo vi ho detto che il Parkinson è evolutivo ma il rallentamento della progressione della malattia può portare a ritardare quel grado di disabilità molto importante è anche la partecipazione con altri pazienti che abbiano la stessa patologia e una cura quasi di autoaiuto gruppi balint si chiamavano una volta associazioni di malati per stare insieme per reagire per vedere quello che fanno gli altri e non vi sto a parlare vi ripeto della dopamina della levodopa dell'associazione che viene fatta con dei farmaci insieme alla levodopa per ritardarne il degradamento è un problema che interessa il medico molte volte questi farmaci vengono frazionati nel corso della giornata per evitare degli effetti collaterali ad esempio il vomito la gastrite e così via molte volte si usano anche dei farmaci nuovi come quelli attuali nei quali vi è la possibilità di avere anche un'azione neuroprotettiva nei confronti dei neuroni voi vi chiederete ma perché non ci parla delle terapie chirurgiche queste stanno avendo anche un certo grado di sviluppo non sempre l'effetto è il risolutore certamente in alcuni centri di eccellenza anche in Italia praticano delle forme di intervento a livello neurochirurgico per poter permettere al paziente di eliminare determinati tipi di sintomatologia che il Parkinson ci dà vi sono allo studio anche delle forme particolari delle tecniche di impianto cellulare delle tecniche di impianto di microstimolatori ma sono cose veramente a livello specialistico che io conosco come esistenti ma non saprei dirvene molto di più perché talmente particolare il campo che saranno i super specialisti a interessarsi di questo quello che è importante è fare una corretta diagnosi del Parkinson vedere se è necessario non fare subito la terapia farmacologica ma dei programmi riabilitativi una terapia psicologica una nutrizione adeguata se invece è necessario applicare la terapia farmacologica bisogna vedere se i sintomi consentono una buona gestione da parte del paziente dei farmaci fare dei controlli frequenti a distanza raggiungere la dose di farmaco non all'improvviso ma con piccole dose iniziali e poi seguire il paziente nel tempo e se la sintomatologia non consente una qualità di vita accettabile bisogna valutare anche la possibilità chirurgica e quelle possibilità nuove di terapia che vengono fatte a livello di centri particolari nazionali anche in Italia vi ho parlato di una patologia non molto frequente ma abbastanza importante che non colpisce molte persone ma che ha fortunatamente la possibilità di dare la speranza anche a quelle persone che ne sono colpite anche se poche e cosa c'è di meglio avere la speranza da Radio Speranza e da questa rubrica per voi che si chiama Geriatria in Onda arrivederci a tutti a cura del professor Carlo D'Angelo a e a 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